Con il programma più ricco di sempre, ritorna in presenza dal 14 al 16 ottobre prossimi, con tutte le precauzioni imposte dalla pandemia, il Salone del Libro di Torino. La manifestazione si presenta con spazi più ampi e nuove regole per gli accessi. In attesa dell'intero calendario online dal 25 settembre, il direttore Nicola Laggioia ha annunciato gli ospiti principali che animeranno i giorni della chermessa letteraria, come Edgar Morin, Michel Ollebecq, Andrei Siman e Kavir Sercas. Oltre la scrittrice Valérie Perren. Il Salone non è un raggruppo intorno a sé dei lettori o dei consumatori, persone che poi acquistano libri, questa cosa qua è importante, ma la donna intorno a sé ha creato intorno a sé e appunto ritrova una comunità, che è la parola che più c'è mancata durante il Covid. Durante il Covid che cosa c'è mancato? Cioè il fatto di stare, sì tutti quanti siamo abituati a fare gli zoom, tutte queste cose qua, ma il fatto di ritrovarsi insieme. Fra gli italiani, oltre ai tanti da scoprire, ci sono Dacia Maraini, Stefania Ausci, Mattia Senard, Emanuele Trevi e Giulia Caminito. Sono diversi poi i rappresentanti del mondo della scienza, come Elena Cattaneo, che toccheranno temi di strettissima attualità. Molto spazio naturalmente sarà riservato al settecentesimo di Dante Alighieri, cui è dedicato il tema di questa edizione, Vita Supernova, ma spazio anche alla musica, ai fumetti, allo sport, legati ai libri e alla letteratura. Emanuele Trevi e Giulia Caminito.